Amami adesso, perché il tempo è un lusso che non abbiamo. Non frenare il sentimento, non trattenerlo, non rimproverarlo. Esso non vive delle tue paure, non segue la tua logica, non si nutre delle tue angosce, ma anzi le disperde. Amami adesso, perché la distanza è un limite per le cose materiali, per i nostri corpi, ma non per quel che provi, che è grande e non ha forma. Non porti troppe domande, non avrai bisogno di tante risposte. Non guardare quanto è alto un ostacolo, ma se è possibile aggirarlo. Non pensare di non essere abbastanza coraggiosa o sicura di te, lo sei più di quanto tu possa pensarlo. E se le ansie e le sofferenze ti stringeranno il petto e ti indurranno a pensare che tu non possa farcela, ricacciale e di loro che hai superato molto di più. Amami adesso perché lo meritiamo, perché abbiamo già barattato un po' di felicità con il dolore, perché abbiamo supplicato anche quando non ci credevamo più, perché abbiamo addosso il peso dei nostri sbagli e delle nostre ragioni. Amami adesso in un modo che non hai mai amato, perché lo senti, perché lo vuoi, perché non sai ancora di saperlo fare. Dovrai buttarti per sperimentare, dovrai soffrire per smettere di dubitare, dovrai piangere per poi ridere, dovrai e potrai essere, dovrai e potrai avere. amami adesso e dovremmo essere noi, potremmo essere noi.